Oggi parliamo ancora di intensificare i valori tonali, i toni in un'immagine per rendere questa immagine più luminosa, più brillante, più bella, più affascinante sfruttando il lab. Il lab è sempre un metodo di colore di per sé già affascinante per una serie di motivi. Lo si può usare facilmente e velocemente in situazioni come questa immagine qui dove abbiamo questa foto di questa biblioteca, dove la biblioteca semplicemente ha un fascino particolare perché è sicuramente una biblioteca di libri antichi, per lo più in una sala molto bella. Allora vogliamo dare un po' più di risalto a questi colori, a questa atmosfera, per ottenere un risultato finale come questo. Voi vedete qui abbiamo una luminosità bellissima, dei colori intensi, belli, senza essere eccessivi e bruciato. E questo riusciamo a realizzarlo con il lab. Allora andiamo a vedere come fare. Allora qui abbiamo questa immagine base per la verità, qui semplicemente ho utilizzato il filtro camera raw, vedete, per schiarire un po' le zone più scure. E adesso andiamo a creare un nuovo livello, in questo nuovo livello uniamo i livelli sottostanti, maiuscolo control al più e maiuscolo command opzione più e e lo trasformiamo di nuovo in un oggetto avanzato, tasto destro del mouse oggetto avanzato. Voi avete notato che ovviamente qui stiamo lavorando in modalità RGB. Se io adesso apro il mio oggetto avanzato, vedete sono ancora in RGB, però a questo punto riesco sotto immagine metodo a trasformarlo in lab. E questo è grandioso perché io all'interno di un oggetto avanzato in RGB posso lavorare in lab per poi salvare e tornare in RGB. E questo ha dei vantaggi enormi che poi dopo vedremo anche a livello pratico il perché anche. Allora partiamo da questa immagine e andiamo a vedere i nostri canali. Voi sapete che in lab noi abbiamo tre canali diversi. Abbiamo un canale di luminosità che gestisce esclusivamente la luminosità dell'immagine senza tener conto dei colori. Poi abbiamo due canali di colori che hanno come vedete un aspetto diverso rispetto ai canali RGB. Questi canali di colori variano tra le varie tinte di grigio. Il grigio neutro, sappiamo che è un grigio al 50%, è là dove i colori A e dunque magenta e verde non sono presenti. Là dove abbiamo colori chiari, come in questo caso qui, questo bianco, abbiamo una presenza di magenta. Più è chiaro, più forte il magente. Là dove i colori sono più scuri, come ad esempio qui in questo caso, oppure qui in questo caso, vedete, abbiamo una presenza di verde. Diversamente il canale B. Il canale B ha anche anch'esso un grigio neutro, vuol dire che non c'è né giallo né blu, perché il canale blu e il canale B gestisce il giallo e il blu. Là dove abbiamo una forte presenza chiara, abbiamo una presenza di più giallo. Là dove le zone sono più scure, come qui ad esempio, c'è più presenza di blu. Se andiamo a vedere, vedete, qui lo vediamo molto bene in questo stemma. Il blu è evidenziato dalle zone grigio scure, il giallo dalle zone grigio chiaro. E questo vale anche qui per il libro. Sicuramente qui nel rosso c'è presenza di giallo, dentro, e qui c'è presenza di blu dentro. Là invece dove non c'è né l'uno né l'altro abbiamo grigio neutro. Questo è importante da capire perché in base ai canali noi possiamo capire là dove c'è magenta, dove c'è verde, dove c'è giallo e dove c'è blu. E in base a questo possiamo utilizzare i canali. Ed è quello che faremo adesso. Allora vado sotto curve e voi vedete qui io posso gestire le mie curve. Guardate come sono gestite le curve A e B. Qui abbiamo una concentrazione di magenta e verde nel canale B di blu, dove a sinistra il blu, a destra il giallo e in A abbiamo a sinistra il verde, a destra il magenta. Adesso noi possiamo modificare questi canali e intensificare i colori. Però prima di fare questo io vorrei creare qui nei canali una maschera che posso realizzare utilizzando ad esempio i calcoli. Allora guardiamo questi calcoli. Nei calcoli noi abbiamo due sorgenti. Abbiamo il sorgente 1 e la sorgente 2 che possono essere ad esempio i due livelli, in questo caso i due livelli sottostante e poi per ognuno possiamo selezionare un canale. Un canale luminosità, canale A e canale B. E i due canali dell'uno e dell'altra sorgente interagiscono tra di loro tramite il metodo di fusione. In questo modo noi riusciamo a creare ovviamente delle maschere molto interessanti. Guardate se io unisco il canale A con il canale B con metodo di sovrapposizione voi vedete che abbiamo degli effetti interessanti come maschera perché mettiamo in evidenza tutta la biblioteca fuorché queste zone scure. Potremmo fare ad esempio moltiplica diventa più scuro oppure man mano che voi passate riuscite a vedere che tipo di effetti si possono creare. Lascio sovrapponi, cioè combino i due canali A e B col metodo di fusione sovrapponi e come risultato scelgo una selezione. Allora adesso elimino questa maschera, ne creo una nuova e ho questa nuova maschera di selezione. Adesso su questa curva comincio a creare le impostazioni. Intanto magari qui avendo attivata la manina alzo un po' le zone di ombra un pochettino senza esagerare. Adesso andiamo a lavorare sui canali di colore. Allora qui guardate se sposto il cursore di sinistra verso destra aumento i verdi, se sposto il cursore di destra verso sinistra aumento il magenta. Allora cominciamo a spostare il verde e poi sposto il magenta senza magari esagerare. Una cosa così. Adesso facciamo la stessa cosa col blu. Se sposto il blu verso destra aumento il blu, se lo sposto verso sinistra il cursore a destra aumento il giallo. Allora anche qui aumentiamo i colori, vedete senza esagerare. Facciamo una cosa così e una cosa così. E già guardate è cambiato l'impatto. Come vedete è migliorato molto l'impatto ed è raffinato per via della maschera che abbiamo creato. Adesso aggiungiamo un'altra curva per gestire un po' la luminosità. Però anche in questo caso prima di gestire la luminosità vorrei modificare la maschera. Vorrei creare una maschera che metta in evidenza le zone che devono essere più illuminate e le zone invece che devono essere meno illuminate. Questa volta scelgo applica immagine. Applica immagine è una funzione molto bella perché crea questa maschera appunto in base ai metodi di fusioni. In questo caso lascio il canale composito lab e guardate e scelgo luce intensa. Voi vedete qui cambiando su alcune non risulta nulla. Ad esempio moltiplica rende la maschera più scura. Allora scegliamo il canale composito. Dunque tutti i tre canali insieme e scelgo luce intensa come metodo di fusione. Guardate la maschera. Vedete che è una maschera molto luminosa per queste zone che mi interessano di libri così via e influisce poco sulle zone scure che hanno molto rumore e dunque sulle quali non vorrei neanche agire più di tanto. Allora alziamo qui un po' nella zona dei mezzi ombre un po' qui senza esagerare. Bene. A questo punto uniamo i livelli in un nuovo livello maiuscolo ctrl alt più e maiuscolo command opzione più e lo convertiamo in un oggetto avanzato per dare adesso un po' più di glow di luminosità aggiungendo una sfocatura e lasciamo 5 pixel però cambiamo il metodo di fusione in luce soffusa al 50 per cento. Vedete adesso guardate che bell'effetto che abbiamo creato e poi aggiungiamo un po' di nitidezza scegliendo accento a passaggio come filtro raggio 1 e qui anche metodo di fusione luce soffusa e lasciamo al 100 per cento. Guardate il prima e il dopo. Vedete che l'effetto è decisamente molto bello. Abbiamo effettivamente qui un po' di eccesso di blu nella zona ombre che possiamo togliere con tonalità e saturazione. Posso andare qui direttamente nel blu e ridurre un po' qui più che nel magenta nel blu voglio ridurre la saturazione. Torno nel magenta dove invece la saturazione serviva ma lo avete visto qui nel blu non è un problema riduciamo la saturazione. Un po' qui anche. Ok adesso chiudo e salvo. Sto salvando l'intervento che ho fatto all'interno dell'oggetto avanzato lavorando in lab. Guardate il prima e il dopo. Adesso e questa è la parte anche interessante posso chiudere il mio lavoro lavorando ancora con l'RGB perché ci sono delle funzioni che non funzionano in lab. Ad esempio quando lavoriamo con il load, il lookup table, questi lavorano con il metodo RGB e dunque se voglio effettuare una modifica aggiungendo ad esempio un load devo lavorare in RGB. Ecco perché era anche comodo lavorare all'interno dell'oggetto avanzato con un load. E dunque ne aggiungo uno, scelgo uno questi qui di Photoshop, questo film stock, però abbassiamo qui l'opacità a un 50% direi se non è troppo intenso. E guardate il prima e il dopo. Questo ha dato questa luminosità, questo effetto film luminoso è finale che però appunto in lab non sarebbe stato possibile. Allora guardate questo è il punto di partenza e questo è il risultato. Voi vedete che ha un effetto, un impatto notevole, è bello come colore intenso, luminoso, molto molto più accattivante e siamo riusciti a fare questo grazie al metodo di colore lab che crea queste magie nel colore. Per chi volesse approfondire il lab c'è un mio corso Photoshop e l'alchimia lab dove parleremo e approfondiremo tutto il discorso sul metodo colore lab.